I carabinieri della compagnia di Napoli Centro hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere messa dal GIP del locale tribunale su richiesta della procura partenopea a carico di IP 4050 in giorno noto alle forze dell'ordine. L'uomo è gravemente iniziato di aver commesso 19 distinti furti aggravati. Gli episodi di furto, riferiti al periodo che intercorre tra l'ottobre 2022 e marzo 2024, sarebbero stati commessi all'interno degli uffici amministrativi di filiali di istituti di credito e in studi legali del quartiere Ghiaia e del Centro Storico. L'attività di indagine effettuata dai carabinieri della stazione Ghiaia sotto il coordinamento della procura partenopea ha permesso di accertare che l'odierno indagato, fingendosi in molti casi il vendente delle ditte di pulizie, con tanto di indumenti e strumenti del caso, e causando in alcune occasioni il mal funzionamento dei servizi girici, si sarebbe impossessato di 15 smartphone della somma di 700 euro in contanti di proprietà dei dipendenti di tre PC aziendali. Il provvedimento è eseguito in una misura cautelare risposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e il destinatario della stessa è persona sottoposta alle indagini e quindi presunta innocente fino a sentenza definitiva.